Il Consorzio Atena, che raggruppa università, enti di ricerca e aziende a Napoli, sta portando avanti delle iniziative per sviluppare delle applicazioni di sistemi idrogeno per la mobilità sostenibile. In particolare abbiamo messo a punto due tipologie di veicolo, una bicicletta alimentata a idrogeno con una caratteristica particolare che ha la possibilità di effettuare un rifornimento molto rapido, in quanto la bicicletta utilizza come sistema di energy storage e di accumulo dell'idrogeno una cartuccia che è stata prodotta tra l'altro da un'azienda milanese in collaborazione con questo consorzio. Questa cartuccia, che ha una forma parallelepipeda, quindi confrontabile con quella delle batterie, può essere cambiata velocemente poiché è dotata di un sistema di attacco rapido. Il vantaggio di questo sistema di energy storage è che la bicicletta di partenza aveva un'autonomia di 45 km alla massima potenza, col nuovo sistema invece raggiunge un'autonomia che è notevolmente superiore, parliamo di circa 150 km di autonomia. E quindi questo significa che la ricarica, la sostituzione del sistema di accumulo deve essere fatta una volta alla settimana, considerando una percorrenza media della bicicletta. Altro esempio di applicazione è quella di un veicolo industriale, una biga, una specie di trattore per il trasporto di carrelli che possono servire all'interno degli stabilimenti per la movimentazione di merci o all'interno di stazioni e aeroporti per la movimentazione dei bagagli o sempre di merci. Questa biga aveva un sistema elettrico a batterie come la bicicletta e aveva un'autonomia di 4 ore. Noi l'abbiamo portata a 12 ore, sempre con un sistema idrogeno. Questo significa incrementare notevolmente le prestazioni dei veicoli elettrici in termini di autonomia, che è uno dei punti di debolezza di questi veicoli elettrici.